Doveva essere in una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza Domenico Librieri, il killer reo confesso dell'omicidio di Marta Di Nardo, l'uomo in carcere a Milano per l'omicidio occultamento vilipendio del cadavere della sua vicina 66enne. Il ricovero di Librieri però non è stato mai attuato a causa della mancanza di posti, nonostante i ripetuti solleciti del PM alle autorità di competenza. Librieri ha due precedenti per violenza sessuale e sequestro di persona, dopo l'omicidio della Di Nardo ha tenuto il suo cadavere nascosto sotto il letto per una settimana. Librieri che soffrirebbe di disturbi psichiatrici ha ammesso di aver ucciso la donna nella mattinata del 4 ottobre colpendola con una coltellata alla gola. Il 16 ottobre avrebbe tentato di lasciare l'Italia facendosi portare in taxi a Malpensa, tentativo non riuscito si legge nell'ordinanza per assenza di mezzi economici. Il tentativo di nascondere il corpo poi Librieri ha tenuto il cadavere sotto il letto per una settimana pensando prima a pulire tutto, dopo lo ha fatto a pezzi, avvolto i resti in due coperte e nascosto il tutto nel soppalco in cucina. Il 46enne ha raccontato che la sorella entrando in casa durante i 16 giorni in cui non si erano più avute notizie della Di Nardo, avesse chiesto al fratello l'origine del forte cattivo odore lui si sarebbe giustificato dicendo che si trattava di carne andata a male e poi l'ho confessione. L'ho uccisa ma è colpa della mia famiglia, preferisco non ricordare, vorrei solo dire che mi dispiace che non è stata colpa mia ma dei miei familiari che non mi aiutavano. Preso dal panico ho nascosto il corpo sopra nella botola in cucina dopo averla tagliata con un coltello lungo 50 cm che si trova ancora presso la mia abitazione in cucina sul mobiletto nero alla lama liscia e il manico giallo. Ha aggiunto Librieri durante l'interrogatorio di convalida del fermo.